Sorridono in cima ad una vetta quell'amore per l'alta quota con la passione di sciare liberi fra le montagne. Tutto questo ha unito ancora più Giulia e Piero. Qui sono sulle Tofane il 26 dicembre. Scattano foto, si mettono in pose e poi via veloci fra quelle montagne che conoscevano bene. Il sorriso di Giulia, 34 anni, maestra di sci alpino a cortina è immenso come le vette che lei amava tanto. Tante avventure, luoghi, sogni. Piero e Giulia immortalavano quei momenti di vita felice, quei momenti unici, indelebili. Su quelle montagne rimane quella felicità spezzata troppo presto, rimangono quei ricordi che queste vette continueranno a conservare.